Ghiaia buttata alla bene meglio, persone che cadono dalla bicicletta e si fanno male, mamme che non riescono a spingere i passeggini. È molto pretendere la stessa attenzione nell'esecuzione dei lavori pubblici di quella che si usa per foto e filmati celebrativi. Questo recente post sulla pagina di Lucia Tarsi, sindaco, sul breccino messo in un solo lato dei passeggi, quello del commissariato, ed esclusivamente per una trentina di metri davanti al ponticello di legno che congiunge le due rive, ha acceso la discussione tra i frequentatori di questo bel polmone verde della città di Fano. Un luogo che si in effetti ha avuto nel tempo notevoli interventi migliorativi, a cominciare dall'illuminazione al rifacimento del ponticello stesso, alla potatura di alberi che erano ormai pericolanti, migliorando così il contesto generale. Ma si sa, la differenza la fanno i dettagli ed i piccoli interventi. Il problema del decoro dei due viali è sempre stato un punto dolente in questi anni. Giochini danneggiati, panchine vandalizzate, escrementi lasciati alla meno peggio in qua e in là. Ampie pozzanghe inoltre d'acqua che si formano puntualmente in caso di abbondanti piogge. Ed appunto, proprio su questo aspetto pensiamo che sia da intendere l'intervento in oggetto. Buona cosa, certo, ma una posa in opera non certo da premio Nobel, dato che per una quantità eccessiva, cumulati in alcuni punti della ghiaia, chi passa in bicicletta ha seri problemi di equilibrio e le carrozzine, come mostrano i segni lasciati, con le loro piccole ruote praticamente arano anziché avanzare speditamente. E già immaginiamo la fatica che si fa a scaruzzare un pupo, passeggino e magari anche borse della spesa, figuriamoci a doverlo spingere di sana pianta. Voi che utilizzate la bicicletta e che ci passate fate un po' fatica? Sì, bisogna scendere. Bisogna scendere? Eh, per bene sì. Mi hanno messo un po' troppa? Ma forse sì, però altre volte l'hanno messa qui, è sempre un lavoro così, perché poi quando piove c'è a sesta quella sotto, tanti anni fa l'ho messo, io sto lì. Era da rullare, ma è difficile portare dentro un rullatore, però... Comunque voi scendete? Eh, bisogna adattarsi, eh. Mi scusi, vedo che lei arranca sulla ghiaia, è un po' tanta? Sì, perché non è sparsa bene. E quindi insomma, vedevo che con la bicicletta, nonostante lei sia uno dotato... Sì, così, così, sì. Però, insomma, passarci sopra? Dai, si passa, sì, un po' con fatica, però si passa. Però potevamo fare un po' meglio. Sì, rispargere un po' meglio. Perché in qualche punto, per gli altri che hanno una bici un po' con le ruote fine, fa fatica. Un po' tanta? Eh beh, ho paura di slittare. Ah, ecco. Sì, 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 sì.